Fabio, come è andata stasera? Avete vinto abbastanza facile, però... Stasera bene, comunque, insomma, hanno creato anche un po' di pericoli, perché probabilmente abbiamo lasciato troppo spazio, dato che era anche l'ultima del campionato, comunque, noi siamo contenti, anche perché ci tenevamo a chiudere comunque in quarta posizione e anche, insomma, fare una buona figura nell'ultima partita. Si diceva l'obiettivo di salire in Serie A? L'obiettivo della Serie A era ambizioso, anche perché siamo resi conto subito che le prime due avevano un altro passo. Abbiamo giocato gli scontri diretti meglio che potevamo, abbiamo raccolto poco, però siamo contenti così. Adesso, traendo le conclusioni, si riparte col primaverile, con l'invernale del mercato? Un po' di mercato, magari, prima, sì. Poi sicuramente cercheremo di... un po' di orto-mercato, giustamente, suggerisce la squadra. Cercheremo qualcosa da fare, perché non si può stare fermi fino all'inizio del campionato. Dai, ti faccio complimenti a te e la squadra per la stagione, comunque, alla prossima, ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao.